Sono io che ringrazio voi perché ci avete onorato di un riconoscimento importantissimo della vostra visita, della vostra attività e della vostra attività. La vostra attività è una grande responsabilità per noi. La vostra attività è un lavoro che la Lampedusa ha, per esempio, con la mia collaborazione, con le nostre attività, noi pensiamo che stiamo facendo quello che sia normale, quello che tutti potrebbero fare. Abbiamo aiutare le persone che dievano perché sono dronando o perché sono suffocati. e abbiamo aiutare le persone che potrebbero fare nulla solo perché stiamo chiedendo l'aide. E poi abbiamo attività di considerare ciò che sta succedendo oggi in Norte e Europe o in altri paesi del nostro paese. E noi dobbiamo riconoscere che non tutti facendo cose normali o cose che sono considerate normali. che, per esempio, riconoscere la sacredness della vita di umano, riconoscere la sacredness della vita di umano. Non tutti capiscono che stai scendendo le persone, usare le persone, usare le persone per scendere le persone, è qualcosa che non è proprio vero. Abbiamo visto terribili immagini di bambini di bambini, di bambini di bambini, di bambini di bambini. E questo è qualcosa che Lampedusa non ha fatto fatto, non solo perché siamo in mezzo del mondo e il mondo belongs a tutti. Il mondo, grazie a Dio, non può contare nessuna bambina. Ma io vorrei dire che il nostro paese è in mezzo di due continenti. Siamo in mezzo del Mediterraneo del Mediterraneo. Ora siamo presi a essere le persone per la storia o per la geografia. Non conosciuto quale provvedere ciência della posizione. Ma il nostro ruolo è essere un paese per chi si saerano. E noi dovremo essere una parte coinvolta. port. So I would like to thank you because in this way we can all do everything we can to help Lampedusa show that welcoming people is something that not only is possible to be done but it's something that can help us to come out of emergency. It's something that is very important. And actually, you know what, this year we had 36 more tourists who came to Lampedusa, probably because they wanted to reward us or they wanted to show their solidarity and probably they just wanted to reward us for welcoming these foreigners, these migrants, or maybe just because Lampedusa is a very beautiful island. But we must speak out, we must say everything because being afraid is extremely stupid and to be honest, if we could do it, if Lampedusa, a such small island, could do what we have done, well, I think if we work all together in solidarity, I think we can really achieve much more. Thank you very much.